Legature. Prima di suonare il brano della pagina 15, cioè la Ninna Nanna, dobbiamo capire un po' cosa sono questi nuovi segni che noi troviamo e che collegano con queste linee curve delle note, o le uniscono prendendone insieme più di una, in questo caso quattro alla volta, oppure le uniscono con appunto sempre una di queste linee curve e vanno da una nota a quella che viene dopo. Questi simboli, questi segni nuovi, si chiamano appunto legature. Esistono diversi tipi di legature. Per adesso, con questa pagina, noi impariamo a conoscerne due fondamentali. Allora, il primo tipo di legatura è quello che comprende sotto di sé più note. Noi vediamo che questa legatura va da questo mi a quest'altro mi e comprende quattro note, mi, sol, fa, mi. Allora, cosa vuol dire? Ci dice il compositore, con questo segno, che questa è una unica frase musicale. È come dire avere una frase da leggere e capire che la frase è finita perché c'è il punto. Quando io vedo il punto in fondo a una frase, capisco che la frase è finita e sta iniziando una frase nuova. Nel linguaggio musicale o nella scrittura musicale noi abbiamo i punti, ma li usiamo per un altro motivo. Non possiamo usare un punto per far capire che la frase musicale è finita. E allora il musicista usa questi segni che sono legature e che indicano che queste quattro note formano una unica frase musicale. La ninna nanna è formata in pratica da quattro frasi. Ognuna di queste frasi è composta da quattro battute. Cosa faccio per dare un senso a questa legatura? Semplicemente cerco di unire le note mentre le suono per fare in modo che non ci sia nessun piccolo istante di silenzio tra una nota e l'altra. Mi spiego meglio. Qui abbiamo mi, sol, fa, mi. Allora, il musicista mi chiede, chi ha scritto il libro, di suonare queste quattro note facendo in modo che i suoni si uniscano fra di loro. Mi spiego meglio. Non dobbiamo avere questo risultato. In questo modo, fra una nota e l'altra c'è sempre un piccolo istante di silenzio. Ecco, questo è proprio quello che dobbiamo evitare. Non ci deve essere questo piccolo istante di silenzio fra una nota e l'altra, ma al contrario le due note per un istante suonano insieme, poi si lascia quella che abbiamo già finito di suonare, e rimane soltanto la nota che deve suonare in quel momento. Al rallentatore sarebbe un po' così. Io suono la nota successiva prima di aver lasciato la nota che sto già suonando. Per un piccolo istante le due note vivono insieme. Questo fa in modo che i due suoni si uniscano e che non ci sia neanche un piccolo istante di silenzio, quello che sarebbe in questo modo. Se io lascio prima un tasto e poi suono quello successivo, ho fra le due note un istante di silenzio. E dovendo invece suonare una frase musicale, non è bello da sentire e non mi fa capire che le note che sto suonando formano un'unica frase, appunto. Questo è il senso di questo segno, oppure di questo, oppure di questo, oppure di quest'altro. Ma noi troviamo anche un altro tipo di legatura. In questo caso la legatura unisce due note, un fa e un fa. Qui unisce un do e un do. Questa è una legatura di tipo diverso, si chiama legatura di valore. Cosa vuol dire? Che mi dice, attenzione, queste due note, che sono due note che contano fino a tre, una, due, tre, uno, due, tre, non devono essere più due note separate, ma devono diventare una sola nota che conta fino a sei. Io capisco che si tratta di questo tipo di legatura perché ce l'ho soltanto, esclusivamente, fra note che sono nella stessa posizione. Il fa è nel primo spazio e questo è sempre un fa nel primo spazio. Unisco queste due note, anziché suonare due volte questa nota, quindi una volta contando fino a tre e un'altra volta contando fino a tre, io la suono una volta sola e tengo il tasto premuto contando fino a sei. È vero che il suono un po' alla volta svanisce e poi non lo sentiremo quasi più, però questo è il significato di questo simbolo, è quello che noi dobbiamo fare, è quello che il compositore, colui che ha scritto questa musica, ci chiede di fare con questa scrittura. Qui succede la stessa cosa. Io ho due do centrali che quindi sono scritti esattamente nello stesso modo, nella stessa posizione, uniti. Il primo che conta tre e il secondo che conta tre. Io suonerò il primo do, uno, due, tre, uno, due, tre. Ho semplicemente mantenuto il tasto premuto anche quando è arrivato il momento di suonare questa nota. Io non l'ho suonata di nuovo, ma ho prolungato il suono in maniera da avere un'unica nota che dura tanto tempo quanto tutte e due le note messe insieme. Quindi legatura di frase unisce delle note per farci capire che è una sola frase musicale. Legatura di valore somma insieme due note per farla diventare una sola che dura molto di più, perché è la somma di tutte e due.